Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi mostrerò come realizzare una pallina molto molto carina decorata con un messaggio speciale da poter regalare al proprio fidanzato, alla propria amica, al proprio bimbo, perché no, e decorare l'albero come prima cosa avremmo bisogno di una pallina semplicissima, senza decori, senza glitter, insomma una classica pallina per l'albero con un pennarello nero indelebile andiamo a disegnare il nostro logo, chiamiamolo così, che potrà essere un cuoricino, un ciuccio io in questo caso sto disegnando due piedini, potete disegnare quello che preferite, per il fidanzato magari sarà più indicato il cuoricino per l'amica magari una scarpina, insomma potete dare sfogo alla vostra creatività, comunque in questo caso sto disegnando due piedini ho disegnato una sorta di fagiolini e poi le cinque sferettine che stanno a indicare i ditini comunque a questo punto prendo della colla vinilica, in questo caso sto utilizzando della semplicissima Vinavil ne metto un pochettino su un pezzettino di carta e poi con l'aiuto di un dotter vado a distribuire la colla all'interno del mio disegno potete tranquillamente utilizzare al posto del dotter uno stuzzicadente, un pennellino, io più che il pennellino vi consiglio lo stuzzicadente perché verrà più precisa la cosa, comunque riempio tutto il primo disegno, faccio un disegno alla volta per evitare che la colla si asciughi e vado a prendere un barattolino di glitter, questi sono di stamperia, naturalmente potete scegliere il colore che più vi piace e vado a coprire interamente tutta la parte di colla, vado a mettere tantissimi glitterini che poi comunque andrò a recuperare quelli in eccesso e quindi vado a coprire tutta la parte bianca, non so se vedete sul tallone c'è ancora un po' di bianco quindi insomma vado proprio a riempire la pallina di glitter in questo modo e poi vedete con il dito vado a battere così che i glitter aderiscano ben bene alla colla e vedete pian piano viene fuori il disegno perché tutti i glitter non incollati cadono sul piano di lavoro comunque continuo così anche per il secondo disegnino potete anche scrivere il vostro nome, la vostra iniziale, insomma potete scrivere quello che volete, disegnare quello che volete una volta asciutta la colla prendo un pennellone, questo è di Essence, costa pochissimo, ha le setole morbidissime e vado a rimuovere tutti i glitter in eccesso, vedete? e il disegno viene proprio perfetto, pulito a questo punto vado sempre con il pennarello nero indelebile a scrivere un dolce messaggio sul retro in questo caso ho scritto 2014 il mio primo Natale Emanuele perché è la pallina che ho fatto per il mio bimbo e poi vado a rifinire il tutto con un fiocchettino azzurro che richiama appunto il colore dei glitter così che possa appenderlo all'albero taglio, vedete, in questo modo il nastrino perché si era un po' svilacciato ed ecco qua la mia pallina finita io spero che questo tutorial semplicissimo vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo realizzerete vi mando un grossissimo bacio e buon Natale! Ciao! Ciao!